Il libro di Aldo Cazzullo Sì, quindi vedrete che lei un po' non ci spiegherà, salterà le cose, vabbè però la perdoniamo. Giuro che non avrò più fame, è il nuovo libro di Aldo che esce il 18 settembre ma voi prima di tutti gli altri potrete conoscerne il contenuto e delle parti e le letture grazie a Beatrice Luzzi. Scusateci del piccolo ritardo che abbiamo avuto ma abbiamo preso strappato Aldo per fare la rassegna stampa perché Carlo Freccero è dovuto partire per motivi personali, però insomma siamo riusciti a mettere insieme tutto. Grazie e buon ascolto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 34 anni dopo la famiglia Zoff avrebbe visto Dino riportare in Italia la Coppa del Mondo. Ecco il libro comincia così, è un libro che non c'è ancora, nel senso che come ricordava Danco che ringrazio esce il 18 settembre, però per me è diventata un po' una tradizione al festival della comunicazione anticipare il libro che avverrà, questa quindi ovviamente è in assoluto la prima presentazione, cosa che mi è anche utile per testare un po' le reazioni, gli umori del pubblico. L'altro anno abbiamo parlato di metti via quel cellulare, due anni fa abbiamo parlato delle donne riterando la terra, che adesso è diventato come qualcuno di voi ha visto uno spettacolo teatrale e oggi parliamo di, giuro che non avrò più fame, l'Italia della ricostruzione. Cioè la mia idea è che anche oggi l'Italia sia un paese da ricostruire. Il libro è stato ovviamente scritto e finito, consegnato prima del crollo del ponte che soltanto l'ennesima tragica conferma che siamo un paese da ricostruire. Nel 48 abbiamo ricostruito un paese distrutto dalla guerra, oggi dobbiamo ricostruire dal punto di vista materiale ma soprattutto morale un paese che è uscito a pezzi da dieci anni di crisi. Però direi andiamo avanti con la prima pagina del libro e poi vi racconto qualcosa. Noi avevamo 16 milioni di mine inesplose nei campi, oggi abbiamo in tasca 65 milioni di telefonini, più di uno a testa, record mondiale. Solo un italiano su 50 possedeva un'automobile e oggi sono 37 milioni, oltre uno su due. Tre famiglie su quattro non avevano il bagno in casa, per lavarsi dovevano uscire in cortile o sul balcone. L'Italia non esportava tecnologia ma braccia, minatori in cambio di carbone. I soldi non valevano più nulla, mangiati dall'inflazione, gran parte delle famiglie, tranne quelle che si erano arricchite con la borsa nera, erano rovinate. Stava un po' meglio chi aveva investito nelle case ma due milioni erano andate distrutte nei bombardamenti, furono ricostruite in pochi anni. Oggi non riusciamo a coprire le buche nelle strade della capitale. I giornali non pubblicavano diete ma consigli per alimentarsi con poco, il problema non era dimagrire ma ingrassare. Eravamo un popolo di contadini poveri. Si faceva il bucato al lavatoio in piedi o nei corsi d'acqua in ginocchio. Cucinavamo con la stufa a legna o a carbone, avevamo difficoltà a conservare i cibi. Non avevamo idea di cosa fossero vacanze o weekend. Non avevamo neppure l'orologio. La vita era scandita dalle campane. Ai rintocchi che segnalavano mezzogiorno tutti si fermavano, dicevano Langelus in un latino stentato, e da casa partivano le donne a portare il pranzo a chi lavorava nei campi. Anche in città per spostarci avevamo la bicicletta per informarci, la radio per parlare, il bar. Solo il 7% possedeva un telefono. Eppure eravamo più felici ora di adesso. Al mattino ci si diceva, speriamo che oggi succeda qualcosa. Invece oggi si dice, speriamo che oggi non succeda nulla. Vedete? Io penso che la ricostruzione sia uno dei grandi momenti della storia del nostro paese. Bisognerebbe scriverla a maiuscolo, ricostruzione con la R maiuscola. Cioè a livello del risorgimento, del piave, della resistenza, momenti di riscossa dopo una caduta. Però oggi del 48, anche degli anni 50 si parla molto poco. I ragazzi non ne sanno nulla. Per loro il 48, come per noi la seconda guerra punica, è una cosa accaduta molto tempo fa ad altri che non interessano, li riguarda. Ma la colpa non è loro, la colpa è nostra. Dovremmo un po' ripristinare questa catena di trasmissione della memoria. Perché i ragazzi oggi hanno delle grandissime difficoltà, però non devono pensare di essere la prima generazione che deve soffrire, che ha degli ostacoli da superare. Pensate cos'era l'Italia nel 1948. Noi ci lamentiamo giustamente per i vergognosi ritardi dei treni. Ma nel 48 i treni non avevano orari. Non è che tu sapevi che alle 14 parte il treno per Milano e accidenti oggi a un'ora di ritardo. Cioè tu andavi alla stazione e vedevi se c'erano dei treni che andavano a Milano. E la gente faceva delle code infinite per aspettare il treno e si parlava. Non soltanto non c'erano i telefonini, ma non c'erano neanche i telefoni. Solo il 7% aveva il telefono e quindi la gente parlava, parlava, si conosceva, si riconosceva. Alla stazione di Milano una madre riconobbe la figlia, incontrò in coda per prendere il treno la figlia che pensava che fosse morta nei lager. Era un paese incomparabilmente più povero di quello di adesso, però era un paese che andava dal meno al più e non dal più al meno. Con una frenesia, una voglia di fare, ecco io non penso che l'Italia di allora fosse un paese migliore nel senso che avesse dei valori più alti, il bene comune, il senso dello Stato, l'interesse collettivo, no. Eravamo individualisti e familisti esattamente come adesso, forse anche un po' egoisti, però avevamo voglia di fare, voglia di lavorare, di sacrificarci, avevamo fiducia in noi stessi e nel futuro. Tant'è che non soltanto gli italiani si mettono a lavorare, ma gli italiani riprendono anche il gusto di divertirsi, di ballare, di cantare, di fischiettare, di ridere. Sono gli anni di Gilberto Govi, di Totò, di Macario, di Dapporto, di Russel, del Giovane Sordi, di Vandosirsi, della rivista e poi della commedia all'italiana. Sentite quali erano i primi film che uscirono nel 1946? Abbasso la miseria, il sole sorge ancora, la vita ricomincia, vivere in pace, un uomo ritorna. Tutti i titoli improntati all'ottimismo, oggi se esce un film, se esce un libro è la fine di qualcosa, la fine della storia, la fine del lavoro. A Milano, in via Rovello, dove c'era il broletto, c'erano ancora le tracce di sangue perché era il quartiere generale della Muti che torturava a sangue i militanti antifascisti e antinazvisti. Arrivano Giorgio Streller e Paolo Grassi, ripuliscono le macchie di sangue e inventano il piccolo teatro. I milanesi non aspettano lo Stato, cacciano i soldi di tasca loro per ricostruire la scala e nel 1946 Arturo Toscanini, scaffeggiato dai fascisti perché non vuole eseguire giovinezza, fuggito negli Stati Uniti, con un grande concerto inaugura la nuova scala ricostruita dai milanesi. Nel 1947 esordiscono insieme all'Arena di Verona una ragazza prosperosa, guarita dalla poliomelite da piccola, Renata Tebaldi, e una greca che sembrava avesse la voce di Dio, Maria Callas. E poi c'era la grande stagione del neorealismo, no? Paisà, Shusha, l'altro di biciclette, Germania hanno zero, però il primo film che le nostre madri e i nostri padri andarono a vedere al cinema fu Via col vento. Via col vento è un film del 1939, però era un film della nazione nemica, l'America, quindi arrivò in Italia soltanto dopo la guerra. È un film che tutti noi abbiamo visto, in particolare le donne. Le donne andarono in massa al cinema a vedere Via col vento, perché Via col vento è un film la cui protagonista è una donna, Scarlett O'Hara. Però gli italiani abituati all'autorchia faticavano a familiarizzare con il nome Scarlett e si pensò di tradurlo, e siccome Scarlatta pareva brutto, fu tradotto in Rossella. Il nome è praticamente inventato e ci fu un boom di Rossella e anche negli anni 60 continuavano a chiamare le figlie Rossella, perché le mamme e le ragazze erano andate al cinema e hanno pensato un giorno se avrò una figlia la chiamerò Rossella. E c'è una scena in cui Scarlett, Rossella o O'Hara torna a casa dopo la guerra civile, trova la sua tenuta di Tara distrutta dalla guerra e lei ha fame, non mangia da giorni, va nell'orto devastato, strappa una piantina, ne rosicchia le radici, la leva al cielo e grido giuro e Dio mi è testimonio che non patirò più la fame, potrò uccidere, mentire, rubare, ma non patirò più la fame. Ecco questo grido, giuro che non avrò più fame, questo giuramento collettivo lo fecero un po' tutte, secondo me, le nostre madri, le nostre nonne, i nostri padri, i nostri nonni 70 anni fa e in questo modo hanno ricostruito un paese e ne hanno fatto un paese moderno, con i suoi limiti, ricostruzione affrettata, periferie orribili, però un paese che credeva in se stesso e il momento chiave di quell'anno, il 1948 furono le elezioni, il 18 aprile, in cui gli italiani furono chiamati a prendere una scelta molto importante tra la democrazia cristiana e il fronte popolare, la Chiesa, l'America e l'Unione Sovietica. Fu una scelta molto netta e anche sorprendente, i comunisti erano convinti di vincere e qui c'è un capitolo nel libro in cui racconto i due grandi competitori, Togliatti e De Gasperi e il clima, l'atmosfera di quelle elezioni combattuti senza social, senza televisione, ma con il comizio, con l'arte della parola. Quindi leggo il 4 sulle parrocchie. Le parrocchie stampano centinaia di santini. Uno è intitolato Il messaggio della regina. Quando il voto tu avrai dato allo scudo che è crociato, sentirai dentro del core che non hai commesso errore. Sta sicuro che ad Alcide la Madonna gli sorride, che votar per lui ti dice la potente ausiliatrice. I comunisti rispondono distribuendo Santini di San Francesco, vero cristiano e presunto testimonial della rivoluzione. Si canta sull'aria di Fischia e il vento. Non è ver che Cristo sia con voi, traditori della libertà, foste sempre gli raguzzini i suoi, ma lui sta col fronte popolar. Le fake news sono già state inventate. Il PC accusa sui volantini dei Gasperi, chiamato Von Kasper, di aver gioito per l'impiccagione di Cesare Battisti. Lui ci rimane malissimo perché Di Battisti era stato amico, sono anche finiti in galera insieme quando si sono battuti per avere un'università in lingua italiana. I comunisti intuiscono la sua sofferenza e infieriscono. A Parma, mentre De Gasperi parla in piazza, srotolano una gigantesca foto di Battisti sulla forca sbeffeggiato dai soldati austriaci. Lui se ne va indignato. Ma quando a Pistoia trova la città tappezzata di manifesti scritti in italiano e in tedesco contro il cancelliere Kruk austriaco, servo al soldo dell'America, De Gasperi, che parla il tedesco come l'italiano, tira fuori la stilografica. Annota quattro errori di ortografia, sei di sintassi, otto di punteggiatura e scrive, here side is hell, bravi asini. Si fa la gara delle affissioni, la sfida è coprire quelle dei rivali. I palazzi sono tappezzati fino all'ultimo piano, non si trova più un muro libero e quando le bande di attacchini si incontrano finisce a botte. I comizi sono continui e disturbare quelli altrui diventa un passatempo popolare. I comunisti portano strumenti musicali, altoparlanti, cani, mucche. I parroci suonano le campane, si prendono a sassate i pullman degli avversari come si fa ora tra tifosi di calcio. Talvolta a interrompere gli oratori del PC arrivano i prigionieri appena liberati dalla Russia che raccontano gli errori del regime sovietico. A Vibo Valencia un frate improvvisa una processione per non lasciar parlare il leader socialista Pietro Mancini che reagisce e chiama i carabinieri. Il giornale cattolico di Cosenza scrive che Mancini per punizione divina è stato colpito da un attacco apoplettico. Non è vero? Eppure la voce si sparge. A Catanzaro un altro giornale scrive che Mancini è rimasto paralizzato. Sui muri di Reggio Calabria i manifesti informano che Mancini ha perso la parola. Il vescovo di Crotone ne esagera e dal pulpito ne annuncia la morte. Mancini è costretto a percorrere la Calabria lungo e largo per dimostrare di essere vivo e in buona salute. Sul 18 aprile circola una leggenda alimentata dagli sconfitti secondo cui a decidere il voto furono i paroci che annunciavano, le fake news erano già state inventate, che annunciavano la morte dei comunisti, le madonne pellegrine, i santi che lacrimavano, padre Lombardi detto al microfono di Dio, Luigi Gedda con i suoi comitati civici, tutte cose che ebbero il loro peso e furono importanti. La Chiesa in un mondo in cui tutte le istituzioni erano crollate, non c'era più la monarchia, non c'era più il fascismo, la Chiesa aveva mantenuto un certo prestigio, una certa solidità e quindi gettò tutto il suo peso nella battaglia a favore della democrazia cristiana e il peso fu importante. Però, diciamoci la verità, i nostri padri, le nostre madri non è che avessero proprio gli occhi foderati di salame, non è che non vedessero qual era la vera battaglia in gioco, non è il santo che piange, o anche il fortunato slogan di Guareschi, Dio ti vede, Stalin no, nella cabina elettorale. Loro fecero una scelta matura, consapevole e io penso che oggi possiamo dire che fecero una scelta giusta, votando per gli Stati Uniti, per la libertà, il posto da cui arrivava al panel, in cui arrivavano gli aiuti nel piano Marshall. Dall'altra parte, dentro il fronte popolare ci fu una netta vittoria dei comunisti sui socialisti e questo da una parte fece sì che i comunisti restarono dentro la democrazia, dentro il Parlamento, però impedì un ricambio, perché i comunisti difficilmente sarebbero potuti andare al governo di un paese che era stato liberato, se qualcuno vuole dire conquistato, dagli americani. E qui c'è un altro elemento che va raccontato, quella scelta del 18 aprile 1948 fu una scelta, secondo me lungimirante giusta, ma non fu una scelta pienamente libera. Il dibattito che poi è proseguito per anni, ma se avessero vinto i comunisti sarebbero arrivati i carri armati americani? È un dibattito ozioso, i carri armati americani non avevano bisogno di arrivare per il semplice fatto che c'erano già, cioè in Italia c'era la quinta armata. Poi il 14 luglio del 48 c'è un altro episodio eclatante, drammatico, l'attentato a Togliatti. Antonio Pallanta, un giovane studente neofascista di Catania, spara a quattro colpi contro il leader del Partito Comunista Italiano che sta uscendo con la sua compagna Vilde Iotti dalla porta laterale della Camera per andare a prendere un gelato. Lo shock è immenso, Togliatti con le ultime parole prima di svenire dice non perdete la testa, però l'insurrezione scoppia un po' dappertutto. Sul Monte Amiata i minatori occupano la stazione da cui passano i fili del telefono e del telegrafo che uniscono il nord e il sud dell'Italia, il paese è interrotto. A Torino la Fiat è occupata, a Milano ci sono cortesi, tirano fuori le armi nascoste dalle fabbriche. Genova è in mano ai partigiani e il questore di Genova telefona ai partigiani bianchi di Paolo Emilio Taviani dicendo mandate qualche partigiano qua che stia dalla mia parte e mi salvi la pelle. In tutto questo Stalin manda un telegramma ai capi del PC contro ovviamente l'abominevole delitto commesso da un uomo che è di fuori del genere umano, ma Stalin depreca anche il fatto che gli amici di Togliatti non siano riusciti a proteggerlo e la cosa getta nel panico i vari Paglietta, Scocci Marro, Secchia, tutti gli altri capi del PC che si interaggono sul da farsi. Neil Deiotti è in ospedale che aspetta l'esito dell'operazione, Secchia che si è consultato con Mosca va da lei a dirle che l'insurrezione non ci sarà e Neil Deiotti dice capisco ma però se invece lui muore prenderemo le armi e Secchia gelidamente come un comunista risponde no, se l'insurrezione è un errore è un errore anche se lui muore, Togliatti per fortuna non muore, si riprende, tornerà a guidare il partito comunista italiano, si capisce che l'insurrezione non si può fare anche perché la repressione sarà durissima, partigiani che avevano deviato il traffico a Torino con lo stene, con il mitragliatore, si beccano 8 anni di galera e se li fanno tutti. Dopodiché comincia un momento in cui la polizia di Scelba spara regolarmente sui cortei degli operai e dei contadini rivolta, quindi insomma sono anche anni molto duri quegli anni, sono anni di scontro frontale, però in qualche modo il PC dopo il 14 luglio pienamente accetta la via democratica e lì si capisce che l'insurrezione non si farà, anche se rimarrà un filo rosso di violenza lungo il dopoguerra italiano destinato poi a riesplodere con gli anni di piombo. Ma come mai l'insurrezione non c'è stata? Qualcuno dice che merdo fu anche di De Gasperi che telefonò a Gino Bartoli, Gino Bartoli era un militante dell'azione cattolica, un uomo coraggiosissimo che aveva salvato centinaia di ebrei nascondendo documenti falsi nella canna della bicicletta. Il cardinale di Firenze, Monsignore Via Dallacosta, era molto legato a una madre superiore del convento di Assisi, di clausura, che nascondeva gli ebrei perseguitati che avevano bisogno di documenti falsi e quindi occorreva a qualcuno che andasse in bicicletta senza dare nell'occhio da Firenze ad Assisi, sono 180 km con i documenti, chi meglio di Gino Bartoli. Allora il cardinale lo convoca e gli spiega quello che deve fare e Bartoli gli dice, ma cardinale ma se mi beccano cosa mi fanno? E il cardinale risponde, ti fucilano su un posto. E Gino Bartoli che aveva già vinto il Tour de France nel 1938, aveva già vinto due giri d'Italia, era l'uomo più famoso d'Italia e non aveva nessun bisogno di rischiare la vita per salvare persone che non aveva mai visto, prende parte e va a portare i documenti falsi al convento. E siccome fa diversi viaggi, i fascisti si sospettiscono, lo seguono, non osano fermare, arrestare Gino Bartoli ma vanno a bussare al convento dove apre la madre superiora che aveva il convento pieno di centinaia di uomini e disse, ma chi siete, cosa volete? Diceva, vogliamo entrare. E no, non potete entrare. E perché? Perché questo è un convento di clausura e sono secoli che un uomo non entra qua dentro. Io non ho mai visto un uomo in vita mia. Al che? I fascisti, intimiditi, girano i tacchi e se ne vanno. Questo era Gino Bartoli e il suo grande rivale era Fausto Coppi, di cui adesso Beatrice ci legge un brano tratto dal libro. Un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco celeste, il suo nome è Fausto Coppi. Con un memorabile incipit il radiocronista Mario Ferretti apre la diretta della Cuneo Pinerolo, terz'ultima tappa del Giro d'Italia del 1949. Coppi è secondo in classifica, 43 secondi da Adolfo Leoni. Il percorso sconfina in Francia attraverso cinque massacranti passi, Maddalena, Vars, Isoard, Monginevro e Sestrier. Piove a dirotto. I ciclisti avanzano penosamente nel fango. Coppi è davanti, ma gli salta la catena. Bartali lo vede fermo al bordo della strada e scatta. Punto sul vivo Fausto risale in sella, supera Bartali, lo stacca sull'Isoard, la montagna del trionfo di Gino l'anno prima al Tour. Percorre da solo 192 chilometri, rifila al rivale quasi 12 minuti e alla maglia rosa oltre 23. In quell'estate del 1949 Coppi vince anche il Tour. È il primo ciclista a imporsi in Italia e in Francia nello stesso anno. La sorte lo attende sul traguardo della Milano-Torino del 1951. La ruota di Cerse Coppi, il fratello di quattro anni più giovane, si infila nelle rotaglie del tram in corso casale sulla riva del Po. Mancano poche centinaia di metri all'arrivo al moto-velodromo. Cerse picchia la testa. Non sembra grave, ma nella notte peggiora. Muore per emorragia cerebrale tra le braccia di Fausto. Il campionissimo non sarà più lo stesso. Il dolore lo avvicina a Bartali, che ha perso il fratello nello stesso modo. I due del resto sono sempre stati legati. Avere un rivale è importante nella vita. Bartali per Coppi era l'avversario ideale e viceversa, senza mai diventare nemico. Eh sì, Bartali e Coppi erano in realtà quasi amici. Ecco, non si è mai capito bene se davvero De Gasperi abbia telefonato a Bartali dopo l'attentato Togliate per chiedergli l'impresa di vincere il Tour de France. L'ho chiesto a sua figlia Maria Romana, che presenterà il libro a Roma, e lei mi ha detto, guarda, non lo so neanche io. Quindi è bello pensare però di sì, perché Bartali aveva dieci minuti di ritardo da Bobbet e da Robicche e il giorno dopo clamorosamente vince la tappa, non riconquista subito la maglia gialla, però rivince la tappa anche il giorno dopo e vincerà il Tour de France, contribuendo anche a un po' stemperare gli animi. È vero che non c'è un collegamento diretto tra l'insurrezione comunista e la vittoria di Bartali, però le passioni popolari in quei giorni frenetici erano forti e si incrociavano in qualche modo, anche perché Bartali e Coppi, la loro rivalità veniva letta anche in chiave politica. Si scriveva sui muri, viva Bartali democristiano, viva Coppi comunista, con un'altra fake news, perché Coppi non soltanto non era comunista, ma era democristiano anche lui e firmò insieme con Bartali un manifesto alla vigilia del 18 aprile per invitare gli italiani a seguire il Papa e a votare DC. Però i due erano molto diversi, Bartali sembrava un bracciante, lui era stato, Coppi era elegante, con gli occhiali scuri, sembrava un divo del cinema, Bartali era un militante democristiano, quando vinse il Tour de France andò a regalare la maglia gialla, non a De Gasperi ma al Papa, mentre Coppi era divorziato, anzi separato, divorzio non c'era e questo all'epoca faceva di lui un peccatore. Pensate che la dama bianca, Giulia Occhini, la donna che lo amava finì in galera per questo e loro dovettero andare a sposarsi in Messico e il bambino nacque in Sud America perché altrimenti in Italia avrebbe dovuto portare il cognome del marito di Giulia Occhini, che non era il padre, tutti sapevano che il padre era Pausto Coppi, ma a quell'epoca il figlio di una donna automaticamente doveva essere considerato il figlio del marito della donna. Insomma una vicenda che in qualche modo contribuì a far capire gli italiani quanto fossero ingiuste quelle regole che soffocavano la libertà femminile. L'adulterio maschile non era reato, a meno che lui non portasse la concubina in casa. L'adulterio femminile era reato sempre ed era sanzionato anche con il carcere, una delle tante ingiustizie per cui sono corsi anni affinché fossero sanate. Nel libro c'è un capitolo su Lina Merlin che la donna più impopolare della storia d'Italia subiva minacce di morte, veniva sbeffeggiata, insultata per strada perché aveva fatto chiudere le case di tolleranza. Oggi io ricevo molte lettere a Corriere della Sera di gente che mi dice dovremmo riaprire le case di tolleranza. Ma abbiamo idea di cosa fosse l'Italia dove il sesso veniva insegnato dalle prostitute ai ragazzi? Cosa fosse un paese in cui la donna doveva stare a casa e il marito invece si sfogava facendo con la prostituta quella che non osava chiedere alla moglie. Quello era un paese in cui l'uomo poteva fare quello che voleva e la donna no, abbiamo nostalgia di un paese così, non credo. Le prostitute non erano più felici di quelle da adesso, erano delle schiave, avevano una vita distrutta, c'erano anche dei prostituti, dei giovani maschi nascosti nelle case chiuse a disposizione, ragazzi che ci sono delle testimonianze della Merlin strazianti, entravano a 16 anni belli, giovani, forti e uscivano a 40 anni distrutti, rottami umani. Abbiamo nostalgia di un paese così? Io non credo, io credo che Lina Merlin debba essere ricordata come una grande donna, così come credo che sia giusto ricordare quelli che definisco nel libro i ricostruttori. Vittorio Valletta, tra l'altro nato a San Piero d'Arena, non ha una via, non ha una piazza, è l'uomo che ha ricostruito la Fiat, che ha contribuito a fare dell'Italia una grande potenza industriale, pagando un prezzo molto alto, gli operai comunisti venivano licenziati, scontri durissimi, ma Valletta è uno che gli entrano, quando c'è l'attentato Togliatti, gli entrano tre ex partigiani, tre operai comunisti, spianando lo stand, il fucile mitragliatore, sulla sua faccia e dicendogli la Fiat è occupata e lui dice, per prima cosa, quando tutto questo finirà, voi tre sarete licenziati. E questi tre premano il grilletto, posano l'arma e quando tutto quello finisce c'è un processo per sequestro di persona, Valletta fa assolvere i tre dicendo, no no non mi hanno fatto niente, perché non vuole che siano puniti dallo Stato, vuole punirli lui, li fa assolvere e poi li licenzi. Questo era Vittorio Valletta. Luigi Inaudi, una figura luminosa, il presidente che invita, bellissimo l'aneddoto di Ennio Flaiano, che viene invitato con altri intellettuali a pranzo dal presidente della Repubblica e alla fine di un pranzo abbastanza parco, c'è la frutta e arrivano questo vassoio pieno di pere e Ennio Audi dice, io mangerei volentieri una pera ma è troppo grande, c'è qualcuno che vuole dividerla con me? E Ennio Flaiano dice, sì volentieri, allora il presidente sbuccia la pera e ne dà a mezza lui, a mezza Flaiano e a mezza se la mangia lui. Flaiano racconta questo episodio e poi dice, dopo Ennio Audi venne un altro presidente, cominciò un'altra stagione della vita politica italiana, cominciò la stagione delle pere indivise. Invece al tempo di Ennio Audi e le pere si condivideva. E poi ci sono due figure, su cui chiederei l'aiuto di Beatrice per raccontarvele, Adriano Olivetti ed Enrico Mattei, due grandi fondatori, Olivetti di un'azienda che purtroppo non c'è più, che fece il primo computer del mondo, l'Olivetti, e Mattei invece è fondatore di quello che oggi è il più grande gruppo industriale italiano con sede in Italia che è l'Eni. Olivetti poteva essere il nostro Steve Jobs e il canavese la sua Silicon Valley, ma l'Italia era un paese vinto e non avrebbe mai potuto sostituire il paese vincitore, l'America, nel guidare la corsa alla modernità. Adriano muore all'improvviso il 27 febbraio 1960 su un treno diretto a Lausanna in Svizzera, dove sta andando a chiedere prestiti per nuovi investimenti. Non ha ancora 59 anni. Si parla di emoragia cerebrale, ma l'autopsia non si farà mai. Un anno dopo muore Mario Chu, l'ingegnere italo-cinese che ha inventato il primo computer della storia. Il suo autista, che non ha mai avuto un incidente in vita sua, perde il controllo sull'autostrada Milano-Torino e si schianta contro un furgone. Le voci che già sono circolate alla morte di Adriano prendono corpo. In molti a Ivrea sono tuttora convinti che l'ingegnere Chu si sia stato assassinato dalla CIA per favorire l'industria USA. Ovviamente prove non ce ne sono e sarebbe comunque finita così, con l'egemonia americana ripristinata ai progetti di Adriano consegnati ai libri di storia. A ogni buon conto la divisione elettronica dell'Olivetti viene venduta alla General Electric. Ma la bestia nera degli americani è Enrico Mattei, uomo chiave della ricostruzione, vero capo della politica estera italiana, fondatore di quello che oggi è il più grande gruppo industriale del paese. Mattei però si è fatto troppi nemici, mezza Italia lo adora, l'altra metà lo avversa. I mafiosi non gradiscono il suo attivismo in Sicilia, i francesi non gli perdonano l'appoggio ai ribelli algerini, gli inglesi si sentono disturbati in quell'Iran che consideravano un tassello dell'impero. Quando chiude un accordo con il primo ministro libico Mustafa Ben Halim, gli americani costringono re Idris a cacciarlo. Mattei capisce che deve ricucire, incontra emissari del presidente e poi lo stesso Kennedy in visita a Roma. I due si danno appuntamento a Washington ma negli Stati Uniti Mattei non riuscirà ad andare. Il 27 ottobre 1962, nel pieno della crisi tra USA e URSS sui missili a Cuba, il suo aereo decollato da Catania esplode in volo e si schianta a bascapè in vista di Milano. Mattei muore nel rogo. Tracce di esplosivo vengono trovate a bordo, persino sul suo orologio e sulla sua fede nuziale. Tutto fa pensare ad un attentato ma nessun mandante sarà mai scoperto. Scavare nella vicenda non ha portato fortuna. Mauro De Mauro, giornalista, scomparirà nel nulla. Il libro Petrolio di Pierpaolo Pasolini, che getta un'ombra su Cefis, uscirà incompiuto e postumo. Per Bocca, che lo ammirò, Enrico Mattei era un uomo secco e virile, nazionalista e populista, della specie dei condottieri, amati e odiati, profondamente italiani, profondamente anti-italiani. Per Montanelli, che lo avversò, un moralista spregiudicato, un corruttore incorruttibile, un tangentaro integerrimo. Il giorno dopo la sua morte, il New York Times scrisse che era forse l'individuo più importante d'Italia. Questa è la storia della vita, della misteriosa fine di Adriano Levetti e di Enrico Mattei. Poi c'è un capitolo dedicato all'ascesa delle donne. Da serve a regine. Questa è una citazione di Pierpaolo Pasolini, che scrisse una cosa che io non condivido. Adesso le donne stanno diventando regine, ma dopo la guerra erano ancora serve. E se la serve, è una condizione che presenta molti vantaggi. Ho qualche dubbio su questo. Pasolini ha scritto molte cose lungimiranti, ma questa è la proprio sbagliata, secondo me. Perché è vero che la condizione della donna, alla fine della guerra, era una condizione durissima. Durante il fascismo la donna era esclusa dalla vita pubblica. Soltanto con lo scoppio della guerra viene abolito il divieto per le donne di esercitare la pubblica amministrazione. Cioè le donne non potevano essere assunte dallo Stato. E ancora nel 1948 le donne non potevano fare il magistrato. Lina Merlin si batte anche per abolire le donne, che è la legge che impedisce l'accesso delle donne alla magistratura. E non ci riesce. È solo negli anni 50 che viene abolita. Oggi la maggioranza dei giovani magistrati sono donne. Non esistevano medici donne. Le donne dovevano fare le infermiere, non il medico. Insomma era un paese ancora profondamente maschilista. Lo so che in parte lo è ancora adesso, però vi assicuro che all'epoca lo era molto di più. E questo dà una dimensione ancora più grande agli sforzi e le battaglie delle donne per emanciparsi, per rivendicare il loro diritto di uscire di casa, di sposare chi volevano. C'erano ancora i matrimoni combinati in quell'Italia. C'era l'idea che le ragazze di buona famiglia dovessero arrivare illibate o fingere di esserlo al matrimonio, mentre invece alla Sartina, oggi diremmo la sciampista, nella Sartina si poteva fare più o meno quello che si voleva. C'erano moltissimi bambini che nascevano di fuori del matrimonio e molto spesso erano figli di ragazze che erano andate a servizio e il figlio del padrone pensava appunto di poter disporre di loro liberamente. E anche qui ci sono le prime deputate che si battono affinché i figli cosiddetti illegittimi avessero gli stessi diritti degli altri. Una battaglia che è durata anni. Quindi insomma non era il paese di Campanelle, era un paese in cui le donne soffrivano moltissimo ma che dimostravano la loro capacità di resistenza, di lungimiranza e ci fu un'emancipazione che camminò in modo straordinario. Anche grazie all'esempio di figure irregolari che io amo molto, come ad esempio quella di Anna Magnani, un'attrice che raccontava la vita vera, un'attrice che non faceva il lifting, che diceva lasciami le rughe perché ci ho messo tutta la vita a farmele venire. Un'attrice che io racconto in un capitolo che dedico la sua disfida con Ingrid Bergman, l'attrice dell'epoca più famosa e più bella del mondo, l'attrice di Casablanca, bionda, svedese, bellissima. Tanto quanto Anna Magnani era bruna, olivastra, scura, mediterranea, donna molto intelligente, dava delle interviste fulminanti. E a un certo punto le due si scontrano perché Roberto Rossellini scrive un film da girare a stromboli sul vulcano con Anna Magnani ma nel frattempo si innamora di Ingrid Bergman e Anna Magnani pretende di girare lo stesso film, lo chiamerà vulcano, così lui dirà avremo due film con due attrici, una bionda e una bruna e un vulcano che erutta sullo sfondo e il pubblico sceglierà. E questo è un brano del libro in cui racconto la reazione di Anna Magnani quando capisce che Rossellini prepara il tradimento. Anna avvertì subito il pericolo di essere tradita due volte nell'arte e nei sentimenti. Era in vacanza da Malfi con Roberto all'hotel Luna quando fu raggiunta dalle prime voci. il suo uomo era in contatto con la Bergman. Rossellini in effetti aspettava un telegramma da Ingrid per fissare il primo appuntamento e aveva dato ordine al direttore dell'albergo di avvisarlo in gran segreto. Ma il cameriere non aveva calcolato l'intuito della Magnani. Così quando si chinò all'orecchio del regista per dirle che l'atteso messaggio era arrivato, Anna fece finta di nulla. Continuò a condire gli spaghetti al pomodoro aggiungendo altra salsa dal piatto di portata. Va bene così? Sì, grazie Anna. Bene, eccote lì, disse e gli rovesciò il piatto in testa. I due si riappacificarono ma per poco. Rossellini preparava la fuga per raggiungere la Bergman a Hollywood. La mattina del 17 gennaio 1949, dopo una notte insonne, si alzò molto presto. Anna si svegliò di soprassalto. Che c'è? Niente, niente, non ho sonno, porto i tuoi cani a passeggio. Lei si girò dall'altra parte, ma lui affidò i cani al portiere dell'Excelsior e sparì. E poi finì che entrambi i film vennero girati e nessuno dei due film ebbe un grande successo. La Magnani però devo dire che non perdonò mai Rossellini, però seppe togliersi una soddisfazione. Durante la lavorazione di Stromboli, uno si chiamava Vulcano, l'altro Stromboli, di Vulcano, scusate, non so se si innamorò, però insomma si fece consolare da un bellissimo isolano, un ragazzo di 20 anni, alto 2 metri, spero che avesse 20 anni, perché all'epoca 21 anni era la maggior età, quindi un caso Asia-Argento. Questo ragazzo bellissimo, grande e grosso, la Magnani lo chiamava Colosseo. Ah Colosseo, fa il tuo dovere, lo convocava di notte per non sentire la nostalgia di Rossellini, neanche perché aveva mandato delle spie a Stromboli per cercare di capire come vivessero Rossellini e la Bergman e soprattutto se fossero innamorati. E queste spie si erano fatte assumere come comparsa ed erano tornate a Vulcano dicendo sì guarda che si amano, si cercano, si baciano, si toccano e questo ovviamente aumentava il dolore della Magnani e aumentava quindi anche i compiti cui doveva sottoporsi, credo con piacere, Colosseo. Dopodiché quando la Magnani tornò a Roma ebbe nostalgia di Colosseo e lo mandò a chiamare e lui col biglietto della nave arrivò a Palermo, prese il treno, arrivò a Roma, la Magnani mandò un autista a prenderlo in stazione e quella sera lo invitò a cena con i suoi amici che erano Federico Fellini, Ettore Scola, Egno Flaiano, andarono a cena nella trattoria di Roma. Solo che la Magnani aveva fatto trovare a Colosseo un intero guardaroba, compreso un paio di eleganti scarpe, di mocassini fatti a mano, solo che Colosseo non aveva mai messo scarpe in vita sua perché alle olie nel 48 non c'erano scarpe, i ragazzi andavano in giro a piedi nudi. Lui rimase in un angolo tutta la sera annoiandosi a morte perché Fellini, Flaiano, Scola, parlavano di cinema, di letteratura e Colosseo non aveva molto da dire. Poi quando uscirono il dolore ai piedi divenne insopportabile e lui si tolse le scarpe, se ne mise una nella tasca della giacca a destra, una nella tasca della giacca a sinistra e cominciò a camminare per via Veneto a piedi nudi. Fellini, Scola, Egno, gli pareva vero, si tolsero anche loro le scarpe e cominciarono a camminare con lui e il giorno dopo il messaggero aprì con una grande foto, la Magnani lancia la moda degli uomini scaldi. Mi piacerebbe andare avanti a lungo e raccontarvi il libro, ma adesso dobbiamo lasciare il palco all'incontro successivo. Voglio dirvi che poi c'è un capitolo sui grandi irregolari dell'Italia di quegli anni, Achille Lauro, il comandante, il sindaco di Napoli, Giuseppe Dossetti, vice segretario della DC che diventa prima frate e poi prete, Giuseppe Di Vittorio, il capo della CGL del sindacato comunista che però sa schierarsi contro Togliatti a favore degli insorti in Ungheria del 1956, Guglielmo Giannini, un comico che fonda un movimento politico, una cosa che mi dice qualcosa, che arrivò al massimo al 5% però. C'è un capitolo, così ridevano, sulla rivista, appunto sull'Italia dicevamo di Govi, Totò, Sordi, Russel, Vandosiris, c'è un capitolo sul mondo del 48, nel 48 succedono grandi cose, viene fondato lo Stato di Israele, viene assassinato Gandhi, vengono tenute le prime olimpiadi del dopoguerra a Londra, c'è la grande vittoria elettorale di Truman negli Stati Uniti. Insomma, potremmo raccontare molte cose, però siccome abbiamo una bravissima attrice, devo dire che ho mandato questi brani ieri a Beatrice Luzzi, è riuscita davvero, complimenti Beatrice, a improvvisare questa lettura, perché non leggiamo anche il brano terzo, quello che abbiamo saltato prima, quello in cui si racconta i grandi di adesso, che cosa facevano nel 1948 quando erano bambini o ragazzi. Avevano fame, anche gli italiani destinati a diventare ricchi, potenti e famosi. A Roma si sparse la voce che alla stazione Tiburtina c'era un carico di farina incustodito. Un ragazzo di vent'anni arrivò di corsa, fece a spintoni con gli altri, riuscì a portarne a casa un sacco, con cui la madre fece il pane per sfamare l'intera famiglia. Si chiamava Cesare Romiti ed era destinato a salvare la Fiat quando a Mirafiori lavoravano ancora 55.000 operai. Anche Giovanni Baudo, avvocato cattolico nella Sicilia affamata dalla guerra, si procurò 10 chili di farina, fu preso dai fascisti e arrestato. Quando gli americani entrarono a Militello chiesero se ci fosse qualche antifascista. Tutti indicarono l'avvocato Baudo che era stato in galera e venne così nominato presidente del comitato depurazione, ma fu clemente con tutti, in particolare con i compaesani. Il figlio Giuseppe ricorda ancora quando arrivò in casa il profumo del dopoguerra. Gallette, gomma americana, caramelle, carne in scatola. Pippo Baudo divenne amico di un ragazzino di Foggia, forse la città italiana più provata dai bombardamenti, che aveva cantato le sue prime canzoni in pubblico nei rifugi antiaerei. Renzo Arbore. Qualche anno dopo, Arbore e Baudo andarono insieme a trovare un personaggio amatissimo in quell'Italia povera e religiosa, Padre Pio, che grazie anche agli aiuti di Fiorello Laguardia, sindaco di New York, stava costruendo un grande ospedale, la casa sollievo della sofferenza. E il mio amico deve fare l'avvocato o l'artista? chiese Renzo. Facis chi vuole, rispose il santo. E li cacciò in malo modo. Mi dicono che dobbiamo chiudere, chiudo dicendo questo, che io credo che anche oggi l'Italia sia un paese da ricostruire, all'epoca eravamo un paese distrutto dai bombardamenti, era anche un paese distrutto nel morale, avevamo perso la guerra due volte, prima contro gli anglo-americani, i russi, poi contro i tedeschi, e sappiamo ricostruire e rendere di nuovo importante il paese nel mondo. L'esergo, la frasetta che c'è all'inizio del libro, è una citazione di Alcide De Gasperi, che alla conferenza di pace di Parigi conclude dicendo vi chiedo di dare respiro e credito alla Repubblica d'Italia, un popolo lavoratore di 47 milioni di donne e di uomini è pronto ad associare la sua opera alla vostra per creare un mondo più giusto e più umano. E l'altra citazione è quella invece di una donna sconosciuta, Enrica Filippini Lera, che era un'antifascista deportata in Germania e sopravvissuta al Lager, e come prima cosa scrive al padre, prima lo tranquillizza sul suo stato di salute, dice bambino caro non essere in pensiero per me, ho superato la prova del carcere brillantemente, il fisico è uomo, il fisico è buono, scrive Anna mentendo perché in realtà stava morendo di fame, e poi però si fa sincera e scrive il morale è altissimo, presto ritorneremo e potrò riprendere il mio lavoro, tanto ci sarà da lavorare in Italia, ma non ci sgomenta, siamo giovani, l'entusiasmo non ci manca, lavoreremo e ricostruiremo la nostra vita e non ci sarà gioia più grande. Ecco il mio augurio che faccio a me stesso, ai miei figli e a tutti quanti noi, e di essere degni di queste parole e ritrovare quella fiducia e quella capacità di sacrificio con cui 70 anni fa le nostre madri e i nostri padri ricostruirono il nostro paese. Grazie Beatrice Luzzi, grazie a tutti quanti noi. Grazie a te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.